buonasera ragazzi movie maker e leo per voi con una nuova live television che oggi leonardo ha fatto anche la recita diglielo eccoci qua pronti 3 teneti non finisce 3 2 1 via via eccolo lì guardiamo tutti crediamo che entreremmo nell'edificio in fiamme ma finché non sentiamo quel calore non possiamo saperlo non si sa niente che si senta tu si hai scelto di morire invece di abbandonare i colleghi benvenuto nell'albile questo per 9 bene bene l'olocausto nucleare no qualcosa di peggio no ok Michael Keane Fenerz ah è quello di Black Classroom se la fate dentro, la fate un po' i denti per farlo sentilo che è successo? non è ancora successo non si capisce niente, il tempo sta per scadere che trira strano eh scritto ecco qua c'è anche Gabi che stasera farà la recita ora siamo a completo vabbè allora questo trailer di tennis non è che si capisca molto non è che si capisca molto cosa è successo mi chiede scusi tuo fratello il protagonista è quello di Black Livesman poi ci sono Robert Pattinson Michael Keane, Kenneth Branagh ma quello che conta è che il film è scritto da Christopher ciao stasera c'è la recita sei pronto per la recita? si, sono prontissimo ok, vabbè ragazzi vi ringrazio lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella se non volete perdere nessun altro nuovo video e seguitemi su Instagram vi ringrazio e alla prossima ragazzi ciao 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 ciao